Forza Italia ha scavalcato la Lega nella presentazione del candidato sindaco alle elezioni amministrative di Cremona in programma il 26 maggio prossimo. La spartizione dei territori per la scelta dei candidati, decisa ad Arcore dai vertici nazionali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha ribaltato i programmi del centrodestra cremonese, che voleva presentare la candidatura di Zagni. Salvini ha preferito puntare su Bergamo e Pavia, lasciando Cremona Forza Italia. Le critiche è giusto che ci siano ed è giusto anche alzare i toni in un momento in cui la Lega non è più quella del 6%. Oggi la Lega a Cremona rappresenta un elettorato più ampio, rappresenta un elettorato diverso. I due candidati, ovviamente noi avevamo il nostro, loro avevano il loro, la scelta è stata fatta dalla nostra segreteria federale, proprio dal nostro segretario Matteo Salvini, è una scelta che noi come militanti rispettiamo e che portiamo avanti. È stato scelto il candidato di Forza Italia su un panorama regionale e sono convinto che comunque si possa giocare la partita per cercare di portare a casa Cremona il centrodestra. Critiche sono arrivate anche per la scelta del candidato sindaco, individuato in Carlo Malvezzi, già assessore nella giunta di Oreste Perri. A lui sono state contestate scelte che hanno a che vedere con l'ambiente e il consumo di suolo, come per la lottizzazione di via Flaminia, le autorizzazioni a nuove aree edificabili e spazi commerciali, legittimate da un PGT fortemente espansivo che prevedeva la possibilità di edificabilità abitativa per oltre 110.000 abitanti, individuando nel contempo una trentina di aree nel tessuto urbano destinabili ai centri commerciali. Anche sul fronte dell'inceneritore, la giunta Perri aveva interrotto il dialogo intrapreso con le opposizioni dall'allora assessore Bordi per la chiusura dell'impianto. Nonostante i rimbalzi di responsabilità tra l'attuale e la precedente giunta su varie questioni, quella ambientale si impone con urgenza per gli anni a venire. Il tema ambientale sulla provincia di Cremona è un tema molto serio. Su questo magari ci sarà da discutere perché abbiamo qualche convergenza da chiarire, però penso che comunque si possa trovare come sempre una soluzione intelligente come abbiamo sempre fatto. Il contratto sottoscritto fondamentalmente sono molti punti che noi avevamo già condiviso all'inizio e vogliamo proprio rimarcarli per dare un segnale che la Lega CEC è presente e che sul territorio vuole imporsi con i propri candidati. Intanto tra i politici di Forza Italia c'è chi volta pagina presentando una lista diversa come Ferruccio Giovetti, ex capogruppo in Consiglio Comunale, che correrà alla poltrona di sindaco con una lista differente. Il centro-destra si dichiara unito verso le elezioni e nella sottoscrizione del contratto per Cremona individua tra le priorità condivise la riapertura della ZTL in centro, lo stop a nuovi centri commerciali, la securizzazione della città con l'applicazione del decreto Salvini e la chiusura dei centri sociali.